Tre navi da guerra della flotta russa del Baltico hanno attraccato nella capitale Lavana. Si tratta della seconda visita di questo tipo a Cuba in meno di due mesi. Il Ministero delle Forze Armate Cubane ha dichiarato che l'arrivo delle navi è una pratica storica, ma non ha fornito dettagli sul loro scopo. Questa visita arriva dopo che tre diverse navi, tra cui un sottomarino a propulsione nucleare, hanno attraccato a Lavana a metà giugno per partecipare a esercitazioni militari. Si prevede che resteranno attraccate a Lavana fino al 30 agosto.